La sclerosistemica è una malattia grave, lo sappiamo, malattia autoimmune, ma che oggi può essere combattuta. Combattuta con quella che noi chiamiamo la diagnosi precoce, che ci permette quindi di instaurare delle terapie che sono fondamentali per fermare l'evoluzione della malattia sia con sostanze immunosoppressive che con sostanze antifibrotiche e oggi anche con le nuove CAR-T therapies, con le cellule CAR-T, che sono terapie innovative, quindi guardiamo con speranza al futuro per poter fermare l'evoluzione della malattia nei nostri pazienti.